tutto anni molto molto del mille mille anni mille anni wow mille anni mille questo del 1050 1050 ha capito si esisteva esisteva la chiave però dici che è fatta prima anche prima del 1000 è stata fatta bene bene i denti mi fa più male chi ha fatto questa chi ha fatto questa è costruito i denti mi fa più male perché è tanto tanto che morte no non c'è più che lavorare l'operaggio che ha fatto delle muratori si bene bene tutto io avevo un militare due militari erano tutti erano gruppo da campagna il campo a tempo di guerra al si 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 uno si chiamava tannislao e l'altro alberto signor mille come come germani 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 bomba no no a casa a me germani no hitler hitler no 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 a casa tutto 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 perfetto no no è rimasta sano sì 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 erano due bravi due bravi a finire la guerra dopo due anni si viene a trovare ma portava tanta da quella roba e ancora era militare stava a roma stava a roma non sono una una a casa vecchia vecchia non sono una una vecchia chiesa 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 tutta la strada del mare adriatico 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 templari templari templariusse ha capito templari avevi templari questa era la giustizia prima c'era io ma io ero mai l'età fatto templari roma 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 si si adriatico si si adriatico c'era le cose a sassoferrano qui a fabriano c'è un'altra chiesa da stesse loro ma perché il sacerdote non c'è più allora entra dentro loro giusto per per tenere la festa è una storia questa perché qui c'è stata l'apparizione si apparsa la madonna apparizione si apparsa la madonna ah si 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 apparsa a parte nell'immagine come si dice tipo fantasma ah fantasma si tipo fantasma no fantasma la madonna no fantasma la madonna la madonna ecco ha capito uno è un uomo sopra quest'altare ah si qui qui c'erano i frati c'erano i frati no i sacerdoti c'erano allora si intesse a chiamare qui dentro e chiamava ha chiamato il nome Bruno e allora viene a vedere la madonna sopra l'altare luminosa luminosa raggiante no e gli ha detto io mando a te ha fatto l'ordine a questo frate che doveva costruire un'altra chiesa che sarebbe l'immagine della madonna questa ah questa 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 è l'immagine della madonna due santuari qua giù a santa maria santa maria non sanno ah si questa è l'immagine della madonna lì è sorta fuori monsano maria madonna maria fuori monsano ah eh questa madonna come come signor come eh come fantasma fantasma si 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 non era fantasma nello spirito santo adesso che noi crederemo eh 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 ah bene 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 nel 1461 è stata ah bene 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 sono polaco eh il mio lochi eh tutto eh tutto 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 bene Italia eh belle paese secondo me eh secondo me belle paese tutto artisti molto artisti molto arte molto arte sì molto arte sì cosa ci credo mia passia mia foto scrivo scrivo mia passia tutto scrittore sì sì poesia poesia sì la storia la storia la storia problem parlo italiano un po' un po' un po' uno anni uno anno Italia uno anno Italia il lavoro eh non ha fatto lo studio di italiano di rientro ah perché se l'aveva fatto era andato dove al comune dopo dove c'è le zone che ristruisce già la lingua straniera gli impara l'italiano la pronuncia italiana ah quello perché era bello che faceva il recupero quello con cinque sei mesi che ci aveva da solo ha imparato poco ah imparato poco da solo invece in due si confronta si ah sì sì ehm perché uno uno comprende subito un altro no un altro comprende dopo sì sì e a quale ora si confronta io molto televisione guarda televisione tutto italiano parlo certo eh scrivo parole scrivo no problem studiano lingua italiana iessi molto lavoro molto molto lavoro questa a casa signor laserini lavoro sono badante ehm lavoro molto giardino giardino tutto tutto grande giardino tutto no problem studiato studiano lingua italiana iessi 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 mia amica polacca polacca ehm perfetto italiana ehm io mia amica signor Romeo 3 ehm televisione poco poco ehm piano 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 sì non veloce ehm 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 io ehm quindici quindici anni quindici quindici ha capito? quindici anni che è qua? quindici anni io ehm ricordo non ehm problem ah parole ehm ehm sono contento che sia da da fare sono contento che sia da da fare che si impegna a fare così che scrive no? gli piace scrivere sì almeno volte là questa è la mia storia sì quando sono stato in Italia presente no? sì mia amica tutto traduttore mi tutto traduttore ehm io mia amica come italiana parlo come italiana no tutto mia poesia veloce il giornale Valesina 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 sì sì Valesina Valesina mio mia poesia uno due mia poesia tutto mia amica traduzione sì sì ci 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 ci